Guardi, ormai sto vedendo anche dei video su di me dove dicono che mi vorrebbero mettere in risiera, che sono come i nazisti, però capite che questi siamo al totale delirio. E' quasi più sconfortato che preoccupato Massimiliano Fedriga. La manifestazione NoVax, che domani arriverà in risiera, impone, secondo il presidente della regione, sotto scorta per le minacce ricevute dal fronte contrario al vaccino, una riflessione più che seria. Trambi del Novecento qui sono passati veramente, non con qualcuno che si crede di essere il nuovo virologo del 2021. Le persone sono morte veramente, le famiglie hanno sofferto e le prospettive sono state distrutte. Ecco, utilizzare questa sofferenza, che con difficoltà abbiamo superato, abbiamo unificato d'altro per follie NoVax, mi sembrerebbe veramente irresponsabile e colpevole. Per il resto, conversando con i giornalisti a margine di un incontro istituzionale, Fedriga si è soffermato su un dato, che deriva dai numeri e dalla campagna vaccinale. Stiamo vedendo una stabilizzazione dei contagiosi, una stabilizzazione delle ospedalizzazioni. Mi auguro possa continuare così, dobbiamo continuare a mantenere la massima attenzione. Rispetto ad un anno fa, ragiona il presidente della regione, la situazione non è solo sotto controllo, è più che diversa. Oggi possiamo fare tutte le attività, le palestre sono aperte, le piscine sono aperte, i ristoranti sono aperti, i teatri sono aperti al 100%, gli stadi sono aperti. E abbiamo la metà delle ospedalizzazioni dello scorso anno, anzi meno della metà. Gli esempi proseguono. Rispetto a Natale 2021 c'è una maggiore mobilità e ciò si ripercuote anche sull'economia del paese. La gente non si spostava, la gente non si incontrava. Oggi invece tutto questo lo si fa e malgrado questo riusciamo a contenere i contagi ma soprattutto riusciamo a tenere le ospedalizzazioni. È cambiato il mondo rispetto all'altro anno grazie ai vaccini, grazie alla campagna vaccinale. C'è poi il dato preoccupante sulle scuole. Federica non nega il problema ma anche in questo caso sottolinea come la situazione sia un'altra rispetto allo scorso anno. L'altro anno ricordo che le scuole superiori di secondo grado erano tutte in DAD. Oggi sono tutte in presenza. È vero che ci sono delle quarantene quando si riscontrano più dei tre casi in una classe ma quello ovviamente lo si fa per la sicurezza sanitaria. Ma stiamo facendo tutti gli sforzi e l'obiettivo è quello di tenere la scuola in presenza.